Ciao ragazzi e benvenuti alla quarta parte del video di Cartoons. Forse la situazione sta cambiando, ma in meglio o in peggio? Questa è la domanda. Per scoprirlo guardate il video e lasciateci un like. Ciao! Cartoons. 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 Oh oh oh, oh 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 Già il punto sempre con passione, Già, ecco mailta la decisione Già il punto sempre con passione, Già Mi raccomando, fatta da così, siete stati fantastici. Ciao, Rio! Rio? Sì, ciao, tutto bene? No, scusa signorina, io non sono Rio, cioè nel senso che io ho i miei vestiti, ma questi non sono i miei vestiti. Come dicevo alla sua collega, io non sono Rio, io non so neanche cosa sono venuto a fare qua, io ho seguito i miei figli dentro al televisore. Ma siamo a Cartunia, nel mondo dei cartoni animati. Non mi prendi in giro, per favore, io sono una persona abbastanza seria, anche in modo... Dovrei essere una persona seria, però io come le dicevo, sono venuto da te, come faccio a spiegare. Lo so da dove vieni, vieni dalla realtà. Ah, lei capisce da dove vengo, quindi sa di cosa sto parlando, non mi sa prendere in giro. Ma certo che capisco, avevo solo paura che non riesci a arrivare in tempo per il concerto. Il concerto? Ma sì, ma sarà una serata speciale, tu Rio, insieme a Gen, è l'avvenimento per il testo dell'arma. Io insieme a Gen... Ma io... ma questo stagione io non so cantare, non ho mai cantato in vita mia. Ma non ti preoccupare, perché ci sono io qui. Ah, c'è lei. Scusi, noi ci conosciamo? Sì, io sono Johnny, e con me non avrai problemi, perché ti insegnano ad usare la forza del pensiero. Veremo quel disco di magia che ti permetterà di ritrovare la tua voce e di cantare. Magia, pensiero, volà... Ma cosa sta dicendo? Come gli ho detto, io sono un avvocato, sono... Ma su, non spaventare, di quel cartone tutto è possibile. In che senso, scusi? Dai, che lo sai, su, canta con me. Ma guarda, io gli ho detto che non ho l'intenzione di rendermi ridicolo, e nemmeno voglio cantare, chiaro? Oppure io non... La generazione della mia vita, la generazione della mia vita, quando Gioi va, che strane cose fa. Lui può scostare tutto il tuo pensiero, il mio è sincero, il mio è tutto scostato, perché leggere è il pensiero. Ma come è possibile leggere il pensiero? Lei deve imparare a leggere i miei libri, lì si legge. E' possibile, è possibile, perché se Gioi gira e fa, spana e cose fa, lui vuole con la forza del pensiero. Questa è una sciacchetta. Uno per volare ha bisogno di un motore, deve volare su un aereo. Figuriamoci se uno per volare solamente con il pensiero. Se riesce per davvero, chissà poi come fa. Ma ti affascina anche Gioi. Gioi, 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 è quasi magia Gioi. Ehi, dice che col pensiero riesce a fare qualsiasi cosa, vero? Certo, qualsiasi cosa. Benissimo. Allora, io vorrei essere a casa mia, se non abbia poltrona, e di gravi, una bella perrezzata. Sì, sì, ma se sei voluto a dire qui, c'è un motivo. No, 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 io non sono voluto a dire qui, eh. Ah, no, no? E se ti dicessi che io sono a due voci? Come la mia voce? Non ha detto che è solo. Gioi, è quasi magia Gioi. Ma più quasi magia. Gioi, è quasi magia Gioi. Roma, ricordo Gioi. E come sempre finisci dai. Gioi, ma di magia Gioi. Ora ricordo Gioi. Ma non si riesco proprio mai. La magia non esiste in un museo sentimentale. Parliamo di cose serie, parliamo di... Sto chiamando la testa. Io voglio tornare a casa mia, perché la magia non esiste. No, esiste. Gioi, è quasi magia Gioi. E ora di nuovo Gioi. E come sempre finisci dai. Gioi, io adesso penso di essere in un sogno. Apro gli occhi e sono a casa mia, eh? Quasi magia.